lungo questo percorso direi abbastanza accidentato. Come sapete, dopo, se avete visto la volta precedente o se avete guardato quello che abbiamo comunicato, dopo ogni sezione ci sarà uno spazio libero per le domande. Alcune domande ci sono già arrivate e le abbiamo raccolte dal web, altre potete formularle voi semplicemente scrivendoli sulla chat. Dopo ogni sezione i singoli autori risponderanno alle domande. Ecco, vi prego soltanto di porre domande che riguardano i temi di oggi sono temi abbastanza grandi, perché ci soffermeremo innanzitutto su quali sono gli attori, quali sono i contesti, quali sono gli attori, c'è in Slovenia, c'è in Dalmazia, c'è in Croazia, c'è in Montenegro, quali sono i diversi soggetti storici, quali sono gli obiettivi e che cosa fanno. Poi, come sapete, avremo ancora una terza visita guidata, che sarà l'ultima, che ci condurrà nella parte più dura della mostra, quella dedicata alle logiche della repressione italiana e in particolare i campi di internamento. Quindi, per cortesia, domande specifiche su queste due sezioni, rimandatele magari alla terza visita, ma sulle sezioni di oggi, cose da chiedere, ce ne saranno tante. Io non perdo altro tempo e quindi ringrazio Chiara Boscaroglio divulgando, la dottoressa Fulvia Benolic dell'Istituto per la storia della resistenza e realtà contemporanea del frulli Venezia Giulia, che curano la parte tecnica e prego loro decisamente di cominciare. Cominceremo con la Slovenia e quindi la parola andrà a Stefan Cioc. Ok, perfetto. E innanzitutto, buongiorno a tutti. Un ringraziamento per questo invito, ma consentitemi anche perché non ho avuto occasione di farlo prima. Un ringraziamento soprattutto per aver voluto creare questa mostra, alla quale abbiamo voluto partecipare anche come Biblioteca Nazionale Slovena degli Studi, perché l'abbiamo reputata una cosa molto importante e significativa. Siamo lieti di essere stati parte di questo progetto e siamo lieti anche di aver contribuito ad allacciare ulteriori contatti che hanno consentito di arrivare a parte del materiale. Come già detto in introduzione, abbiamo a che fare con una tematica abbastanza complessa e la cosa vale anche per la parte di mia competenza, che in realtà richiede un chiarimento già dal punto di vista del titolo della sezione. Nel senso che già ragionando sulla sezione, ci si è posti come quesito, come intitolarla, Slovenia o provincia di Ljubljana? Il secondo termine sarebbe stato oggettivamente più corretto e più rispondente alle cose di cui andremo poi a occuparci, ma alla fine la valutazione è stata che il termine Slovenia sarebbe stato anche maggiormente comprensibile per le persone a cui questa mostra si rivolge, cioè alle persone che non hanno già una conoscenza approfondita dell'argomento e quindi decidere di intitolare la sezione Slovenia consente di capire subito qual è il territorio di cui ci si sta occupando. Naturalmente in questa sezione cosa andremo a vedere? Andremo a vedere cosa succede in quei territori dell'odierna Slovenia, che all'epoca vengono denominati dal regime fascista che occupa questi territori provincia di Ljubljana, che vengono annessi appunto all'Italia fascista nel 1941. E quindi facciamo subito una distinzione terminologica, Slovenia per capire di che territorio stiamo parlando oggi, andando a vedere una mappa fascista dell'epoca, su quel territorio avremmo trovato la scritta provincia di Ljubljana. Vanno capite alcune cose che portano alla nascita di questa nuova provincia. La prima, quando nell'aprile del 1941 si scopre a Ljubljana che è scoppiata la guerra, e lo si scopre quando si inizia a sentire gli spari essenzialmente, ci si immagina che il pericolo verrà dal nord, cioè nell'immaginazione collettiva della popolazione, ma anche delle classi dirigente, quel che ci si aspetta di vedere da un momento all'altro sono le truppe della Wehrmacht tedesca che avanzano dall'odierna Austria. E quindi in realtà l'arrivo delle forze italiane da ovest costituisce prima di tutto un elemento di sorpresa, ma la stessa presenza di quelle truppe e anche poi la creazione della provincia di Ljubljana avrà delle caratteristiche che potremmo definire un po' di estemporaneità. Nel senso che l'Italia fascista che invade i territori, quei territori, non ha un'idea o una necessità precisa di cosa fare di quei territori, ha piuttosto una serie di esigenze contingenti che in un certo senso non dipendono da lei. Nel senso che dobbiamo innanzitutto capire che ci troviamo in un momento in cui la guerra parallela immaginata dal regime fascista sta già trasformandosi in una lunga serie di brutte figure, danni successi iniziali contro la Francia, che è già allo estremo delle forze sul fronte alpino, al catastrofica evoluzione del conflitto prima in Libia e poi sul fronte greco, e insomma servono un po' anche delle notizie che, anche se non parlano di vittorie militari, perché non ce ne furono nel contesto della Slovenia che veniva occupata, fossero almeno notizie di conquiste. E c'è poi anche una duplice preoccupazione legata in realtà ai territori che stanno al di qua dei confini italiani dell'epoca. Perché da un lato immaginarsi di avere un Reich tedesco che arriva quasi all'altezza di Postumia significa anche porti la sgradevole domanda di quanto sarebbe stata rilevante la pressione tedesca in direzione dell'Adriatico. E in secondo luogo devi tener conto della presenza, ci torneremo poi all'interno dei confini del Regno d'Italia, delle comunità slovena e croata, nelle quali una volontà di resistere all'italianizzazione continua a persistere anche come conseguenza dei rapporti con la Slovenia centrale. In realtà, come vedremo appunto poi in uno dei pannelli, proprio l'aggressione alla Jugoslavia determinerà poi anche nell'area della Venezia Giulia, oppure usando la terminologia della geografia slovena nell'area della Primorska, il progressivo passaggio a una varia e propria guerra partigiana, perché ben presto il movimento di resistenza sloveno inizierà a comparire anche a occidente del confine di Rapazi. Ma nell'aprile del 1941 si tratta innanzitutto, per le autorità fasciste che hanno creato questa nuova provincia, di capire come gestirla. E c'è da dire che da questo punto di vista il fascismo confida di poter trovare, e infatti in parte anche troverà, elementi di collaborazione nella stessa società. E anche questo, oltre al fatto che a differenza della Venezia Giulia la popolazione è interamente e compattamente slovena, spinge ad adottare a Ljubljana una politica diversa da quella che il fascismo aveva ormai enunciato e praticato da più di due decenni nella Venezia Giulia. Se nella Venezia Giulia, sino al confine di Rappallo, è sostanzialmente bandito, per esempio, l'uso della lingua slovena, a oriente di quella lingua e quindi nel nuovo territorio della provincia di Ljubljana, l'uso di questa lingua non viene messo in discussione. Piuttosto avviene un affiancamento della lingua italiana nei documenti, nei giornali, nella cartellonistica. Nelle foto del primo pannello introduttivo vediamo anche, del resto, alcuni esempi della politica adottata dal fascismo nella nuova provincia. E quindi vediamo, per esempio, l'alto commissario per la provincia di Ljubljana, già federale di Trieste e Milo Grazioli, che incontra la popolazione civile presso il mercato di Ljubljana, oppure i lavoratori della locale fabbrica tabacchi. Qua siamo nei primi periodi dell'occupazione, nei primi periodi di esistenza della nuova provincia. Ovviamente cosa vogliono trasmettere queste scene? L'idea dell'unità di intenti fra la nuova autorità fascista e la popolazione locale. E allo stesso modo questa unità di intenti la testimoni anche in che modo? Coinvolgendo, creando anche nella realtà locale, le organizzazioni di massa fasciste. E quindi, per esempio, possiamo anche vediare una foto della gioventù italiana del Vittorio di Ljubljana, quindi della GIL, con due L, a cavallo fra 1941 e 1942. E proprio questa organizzazione, la gioventù italiana del Vittorio, sarà una di quelle che potrà raccontare sul maggior numero di aderenti. Ora, di queste adesioni però non va sopravvalutata l'entità, non solo dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista del loro significato. E del resto, già lo stesso cambio di politica che le autorità fasciste metteranno in pratica di lì a pochi mesi, cioè il cambio di politica dal confidare nella collaborazione della popolazione locale a forme di repressione più dure, testimonia di quanto in realtà queste adesioni, che pure vengono naturalmente promosse e anche propagandate, non siano nulla più che una patina superficiale, sotto la quale sta covando ben altro. Sta covando ben altro perché naturalmente l'esigenza che hanno innanzitutto le autorità fasciste è quello di effettivamente innanzitutto andare a identificare chi è che vuole collaborare, quali siano quei pezzi di società che vogliono collaborare e quindi passando al secondo pannello va citato sicuramente come figura importante il già Bano, varo governatore della Drauska Banovina, Marco Natlacen, di lui va detto, innanzitutto va chiarito cosa governava, cioè la Drauska Banovina per capirsi nel regno di Jugoslavia corrispondeva ai territori del regno e quindi anche in realtà ai territori dell'odierna Slovenia eccettuata la parte occidente del confine di Rapallo in cui abitavano gli Sloveni. Natlacen va ricordato che fra le altre cose avrà modo di incontrarsi con Mussolini già prima della guerra nel settembre del 1938, siamo sul confine fra Italia e Jugoslavia, siamo in quel periodo per capirsi in cui Mussolini si trova nelle nostre terre perché è impegnato in quel lungo giro che farà il confine orientale con l'annuncio delle leggi razziali, con Re di Puglia eccetera, quel lungo giro che lui farà e siamo nell'immediata vigilia del volo di Mussolini in Germania per gli accordi di Monaco, un periodo quindi particolarmente importante nell'ambito del quale Mussolini incontrerà anche le autorità del regno di Jugoslavia sul confine. Alcune di quelle figure saranno poi gli interlocutori dei fascisti nel 1941 quando si tratterà di andare a individuare figure politiche che possano appunto svolgere un ruolo di collaborazione con le autorità e quindi Natlacen e anche altri come figure di spicco della consulta provinciale che viene creata come affiancamento e una consulta quindi un organo consultivo alle autorità fasciste che governano la provincia e qui vediamo appunto i membri che si incontrano con Mussolini nel giugno del 1941. In realtà dietro tutto ciò ci sono molte ambiguità. C'è innanzitutto l'ambiguità della stessa politica fascista che da un lato dichiaratamente parla di autonomia per questi territori ma dall'altro lato in realtà non dà alcun potere reale a questa consulta e dall'altro ambiguità da parte di queste stesse classi dirigenti slovene che da un lato collaborano con le autorità nella consulta dall'altro lato clandestinamente continuano a dichiararsi fedeli sudditi del governo jugoslavo in esilio e quindi una ambiguità un voler tenere in un certo senso più porte aperte che si che prosegue nel corso dei mesi anche con molte contraddizioni lo stesso Natlacen a un certo punto lascerà la consulta lascerà la consulta e semplicemente perché la consulta è un organo vuoto ma nessun significato reale. Da un lato quindi dichiarata fedeltà al governo al governo in esilio il governo jugoslavo in esilio a Londra dall'altro lato però interlocuzione in chiave anticomunista con le autorità fasciste sino all'adesione di alcuni gruppi alla milizia volontaria anticomunista nota anche come bella garda o guardia bianca milizia volontaria anticomunista che avrebbe attivamente collaborato con le autorità di occupazione e qua naturalmente va inserito un ulteriore elemento che non vale solo per la realtà slovena quella cioè di quando di quanto questa guerra non sia solo uno scontro con le autorità occupanti fasciste fra le autorità occupanti fasciste il movimento partigiano ma si configuri anche come uno scontro all'interno della società slovena stessa ed è uno scontro che lascerà ferite profondissime se è vero che quel tema è ancora oggi presente nella società slovena ahimè aggiungo forse troppo spesso a livello politico più che storiografico e questo consentitemi di dire anche che ci consente di aprire solo un ragionamento su quanto sia errato pensare al passato solo a un confronto fra diverse prospettive nazionali perché poi in realtà anche all'interno di ogni nazione e comunità gli approcci possono essere molto diversi concludendo questa parte elemento significativo che lo stesso matt lachen alla fine morirà in questo scontro viene ucciso su decisione del movimento partigiano nell'autunno 42 e come conseguenza di questa esecuzione 24 ostaggi verranno fucilati dai fascisti davanti alla sua casa subito dopo il tema della collaborazione con le autorità fasciste riguarderà però da vicino anche il tema del ruolo che avranno le gerarchie cattoliche e da questo punto di vista è da tenere presente come nel territorio della provincia di lubiana una parte di queste gerarchie diventi per le autorità fasciste un interlocutore importante anche qui in chiave anticomunista ovvero ne vedendo nei comunisti il principale nemico anche da questo punto di vista consentitemi di segnalare che anche questo tema è un tema che si declina in maniera diversa se ragioniamo sulle aree della slovenia centrale dell'allora provincia di lubiana o se ragioniamo per esempio sulle aree della venezia giulia mentre nell'area della provincia di lubiana scontro fortissimo fra gli elementi clericali cosa che non corrisponde a cattolico tucur tra gli elementi clericali e il movimento partigiano nell'area della venezia giulia invece importante ruolo anche del clero sloveno in chiave antifascista e anche quindi un'adesione di elementi non marginali di quel clero anche il movimento partigiano e arriviamo adesso naturalmente a un altro elemento fondamentale a quelli che come dice il pannello non ci stanno cioè a quelli che vanno a creare quella cosa che coglie del tutto di sorpresa le forze di occupazione la nascita di un momento di resistenza una nascita che sostanzialmente immediata se pensiamo che già alla fine di aprile la sera del 26 aprile 1941 si svolge in una villa di un'importante intellettuale sloveno la riunione fondativa di quello che diventerà il fronte di liberazione del popolo sloveno e in merito alla resistenza slovena e in merito la quale anche qua c'è ancora oggi un dibattito vivace forse più al di fuori del mondo storiografico vanno sottolineati alcuni aspetti il primo che nasce come movimento plurale in cui confluiscono diversi partiti gruppi il secondo che i due fattori numericamente più rilevanti sono i comunisti e i cristiano sociali il terzo che con il praspassare del tempo saranno i comunisti forti di un'organizzazione ben strutturata forti anche di la maggiore esperienza all'attività clandestina dicevo saranno i comunisti ad assumere un ruolo sempre più prevalente sino alla totale egemonia tutto questo naturalmente ancora di là da venire nella prima vara del 1941 il movimento di resistenza nasce come qualcosa che per sua definizione come sostanzialmente qualsiasi momento di resistenza qualcosa di magmatico perché un movimento clandestino di difficile definizione teniamo presente che il movimento di resistenza sloveno nasce un momento in un momento in cui l'europa dall'oceano atlantico fino al confine sovietico è dominata dal natifascismo e quindi la decisione di fondare in quel momento un movimento di resistenza denota anche un fortissimo segnale di vitalità che è del tutto inatteso dalle autorità fasciste qualcosa che le autorità fasciste non si erano aspettate da questo punto di vista mi permetto di segnalare due elementi estremamente importanti per quello che sarà lo sviluppo successivo del movimento partigiano sloveno due elementi importanti per quel che riguarda la contrapposizione con l'Italia fascista il primo che proprio nei territori della provincia di Ljubljana soprattutto nei boschi dell'area sud orientale della provincia di Ljubljana si troverà il centro il cuore pulsante di questo movimento partigiano il secondo che proprio il collasso dell'Italia fascista nell'autunno 1943 darà a questo movimento lo slancio che gli consentirà un vero salto di qualità in termini numerici organizzativi anche prettamente militari dell'ultimo periodo del conflitto resistenza non starci però può voler dire tante cose e da questo punto di vista merita perlomeno citare un evento che avviene subito ancora prima della fondazione del movimento di resistenza perché una delle persone che non ci stanno è una persona molto anziana che ha sostanzialmente 90 anni all'epoca uno dei più anziani rispettati politici sloveni Ivan Krivar sindaco di Ljubljana inizio secolo una persona molto stimata il sindaco della ricostruzione dopo un grande terremoto che aveva colpito la città una figura prestigiosa così prestigiosa che i fascisti lo convocano e gli propongono il ruolo di podestà Krivar non solo rifiuterà ma Krivar si suiciderà avvolto nella bandiera si suicida il 18 aprile lasciando una lettera di comiato in cui cita i versi del più famoso poeta sloveno il più importante poeta sloveno tant'è Presiren in cui dai quali si capisce che la morte è preferibile alla schiavitù e quindi teniamo presente che quando si parla di movimento di resistenza del non starci si parla sì di movimenti organizzati ma si parla anche di iniziative singole le azioni organizzate però iniziano a esserci molto presto in forme preoccupanti per le autorità alcune sono di stampo dimostrativo per esempio a svuotare le vie della città in determinati orari in segno di silenziosa protesta altre assumono connotati ben più attivi si va dall'uccisione di chi è visto come un nemico si è citato prima l'uccisione dell'ex Bano anche perché ben presto la lotta inizia anche a inserirsi in una dinamica di lotta rivoluzionaria portata avanti dai comunisti ma si va anche all'azione di varie proprie azioni di guariglia ed è anche questa escalation che però inizia ben presto a far pendere la bilancia nelle decisioni delle autorità fasciste verso il pugno duro ed è un po anche un po il dilemma che si pone di fronte a qualsiasi di movimento a resistenza di a qualsiasi movimento di resistenza clandestina della storia il sapere cioè che il fatto che tu esista porterà a un inasprimento della politica del potere a cui ti stai opponendo e passiamo quindi al penultimo pannello perché se la politica di repressione verrà citata si diceva anche nel terzo incontro c'è perlomeno almeno un elemento che opportuno venga citato subito ci sono alcuni elementi specifici della provincia di lubiana che vanno citati perché uno degli elementi in quello anche che ancora oggi più visibile forse dell'inasprirsi della repressione antipartigiana è quanto avviene intorno a lubiana perché le autorità fasciste devono porsi in quesito spinoso che fare di lubiana città che per il suo ruolo svolge un ruolo è un centro importante per le attività clandestine e la soluzione è abbastanza semplice la si circonda interamente di filo spinato e sostanzialmente una città che diventa un enorme campo di internamento se vogliamo perché circondata da un filo spinato lungo quasi 30 chilometri che prevede solo alcuni punti di passaggio sorvegliati naturalmente il cui fine è quello di impedire i contatti fra la città e l'entroterra contadino dove naturalmente evidente per i partigiani c'è maggiore libertà d'azione ed evidentemente un'idea che funziona bene severo che anche i nazisti nell'ultimo periodo della guerra la manterranno e infatti l'ultima foto di questo di questo pannello risale in realtà il 1944 ma anche le autorità naziste troveranno ben utile questa idea che l'italia fascista aveva introdotto all'inizio del 1942 con l'ultimo pannello e spero di non essere troppo lungo nei tempi ci spingiamo a rigor di logica in un territorio che di questa mostra non dovrebbe neanche far parte perché andiamo a occuparci di eventi che avvengono a occidente del confine di rapaglio in territori cioè che fanno parte del regno d'italia da più di vent'anni in cui la popolazione è tutta cittadina italiana e questo lo sottolineo perché quando parliamo di cose che succedono a ove di rapaglio parliamo di cose che riguardano i cittadini del regno d'italia cosa che però nulla ci dice sui sentimenti di quella popolazione quel confine di rapaglio infatti porta all'italia anche dei territori in cui la popolazione è mista ovvero a seconda dei casi a prevalenza italiana o slovena oppure in certe aree anche compattamente slovena mano a mano che ci si allontana dalla costa verso est e il fascismo in questi territori ha adottato una politica snazionalizzatrice adottando verso le minoranze perché uso il plurale perché c'è anche il tema dei croati in istria da ricordare un approccio che purtroppo era abbastanza diffuso nell'europa di allora le minoranze viste come problema da risolvere il prima possibile con le buone o più spesso e questo il caso del fascismo con le cattive e una delle conseguenze inattese e più sgradite dell'invasione della jugoslavia sarà il fatto che il nascente movimento di resistenza sloveno inizia ben presto a fare capolino anche a ovest della linea di rapaglio il regime fascista rimette in discussione anche quanto era stato concordato nel 1920 con quell'invasione cosa che del resto era evidente anche agli stessi sloveni e gli stessi sloveni e diventa ben presto evidente le autorità fasciste e infatti non a caso nell'autunno del 1941 il tribunale speciale per la difesa dello stato tornerà a trieste per imbastire un grande processo contro l'antifascismo slovenino ed emanare delle condanne a morte che vengono poi eseguite il 15 dicembre del 41 presso il poligono di tiro di opicina ai danni di cinque antifascisti sloveni due cose la prima perché perché quello è un messaggio agli sloveni e al di qua del confine di rapaglio la risposta che potrà dare il fascista se fascismo sarà solo questa la seconda cosa i corpi di quelle vittime verranno portati ben lontano da trieste per evitare qualsiasi simbolismo rigato a quelle morti verranno sepolti a fontane di velorba vicino a treviso e verranno poi riportati anche con un solene corteo funebre a trieste solamente alla fine della seconda guerra mondiale in quella trieste compesa e divisa di un immediato secondo dopoguerra che però costituisce già un'altra storia e con questo io concludo e mi scuso se sono stato eventualmente troppo lungo grazie bene ringrazio stefan cioc è stata una splendida esposizione a questo punto vediamo se per caso c'è qualche domanda c'è qualche domanda per lui al momento non ci sono domande riguardo a questa sezione guardo la chat sono richieste di bibliografia ma questa è già presente nella mostra e allora se per il momento non ci sono domande possiamo passare alla sezione successiva e quindi tocca a che ci parla di dalmazia e ci parla di croazia lavoro doppio inizialmente aveva solo la croazia ma noi abbiamo aggiunto anche la dalmazia prego vabbè grazie un saluto a chi ci sta ascoltando e un ringraziamento anche da parte mia al curatore della mostra che credo sia davvero un ottimo prodotto e soprattutto molto utile per diffondere della conoscenza di questi eventi nella cittadinanza tutta non solo tra gli studiosi e dunque sì io devo affrontare un tema un po complesso e dunque condivido lo schermo così vediamo insieme la mostra e allora io in realtà volevo cominciare da alcune mappe che ci possono che troviamo invece nella sezione 1 che non è la sezione dalmazia di cui parleremo dopo che però ci aiutano a capire di quali territori stiamo parlando ecco qua abbiamo inserito proprio nella quindi nella prima sezione quella che riguarda l'invasione la guerra quindi l'inizio diciamo di tutta questa storia abbiamo inserito delle mappe che appunto ci aiutano a capire qual è la sistemazione di questi territori dopo l'invasione durante la guerra abbiamo parlato della provincia di lubiana che questa parte qua in alto rosa scuro e adesso parleremo della dalmazia che è quest'area e che include anche questo territorio qua adesso vedremo un po in che in che termini viene strutturato e poi parleremo della croazia ovvero dello stato indipendente croato come si chiamava questo territorio durante durante la seconda guerra mondiale ecco in questa in questa mappa si vede meglio il territorio annesso alla all'italia durante la seconda guerra mondiale la città di zara era già parte dell'italia era un'enclave italiana sulla costa dalmata e vengono però annessi all'italia nuovi territori che includono la provincia di spalato e la provincia di cattolo come vedete sono in parte scollegati tra di loro ecco andiamo direttamente adesso alla alla sezione invece dalmazia come vedremo in realtà molti temi sono sono correlati fra loro sia abbiamo sentito parlare del parlando della slovenia del movimento partigiano delle strategie repressive dei campi di concentramento ovviamente questi temi ritornano anche in altre in altre sezioni naturalmente non soltanto non riguardano soltanto la slovenia però ovviamente andava strutturata in qualche modo la mostra e quindi abbiamo scelto di appunto inizialmente dividere in base alle 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 differenze amministrative che vengono create durante la guerra ecco la la dalmazia come come vedete a 22 pannelli diciamo la stanza della dalmazia definire così a due pannelli nella prima si introduce un po il tema cioè perché viene annessa questa questo territorio l'italia sostanzialmente si tratta di un territorio su cui l'italia aveva diciamo aspirazioni annessionistiche da moltissimi anni diciamo sostanzialmente dall'unità italiana si tratta di uno degli obiettivi diciamo del cosiddetto compimento del della dell'unità nazionale questo perché ovviamente esisteva una piccola minoranza ormai piccolissima minoranza di popolazione italiana in questi territori ma soprattutto c'era invece una memoria storica legata alla presenza della repubblica di venezia in quest'area e quindi la dalmazia rappresenta per il fascismo un vero e proprio successo d'immagine lo definirei così e ha una grande rilevanza qui di dal punto di vista politico ma anche strategico diciamo militare perché in qualche modo avere i territori costieri dell'est adriatico consente il controllo totale del del mare adriatico questo spiega perché c'è un grande investimento da parte del regime su questo territorio poi vediamo delle belle immagini che rappresentano l'arrivo dei soldati italiani in questo territorio un grande investimento quindi con con un tentativo innanzitutto di fascistizzare realmente il territorio cioè annetterlo italianizzarlo e fascistizzarlo a differenza di quello che avviene in slovenia dove si è detto c'è un tentativo diciamo di mantenere almeno la parvenza di autonomia di quel territorio una sorta appunto di provincia autonoma potremmo definirla invece in dalmazia l'obiettivo è quello di renderlo il più possibile simile al resto d'italia fin da subito quindi un grande grande impegno anche anche un grande impegno di risorse materiali e anche con impegno di cioè con un una presenza di personalità di prestigio in particolare il governatore di questi territori governatore governatore della dalmazia che giuseppe bastianini che è un personaggio di primo piano un gelarca fascista molto importante amico personale di di mussolini ecco cosa succede anche in questo territorio però c'è chi non ci sta e quindi fin dalla dall'estate del 41 ci sono c'è una presente un'attività un'attività di resistenza in gran parte guidata dal partito comunista che anche delle caratteristiche ovviamente nazionali nel senso di identificarsi con la popolazione croata che stramaggioritaria diciamo in quest'area e di quindi percepire in qualche modo gli italiani come invasori nazionali oltre che ideologici e questa attività si caratterizza soprattutto per essere un'attività di tipo prevalentemente urbano diciamo con delle caratteristiche tradizioni tradizionale opposizione politica diciamo di sinistra o comunista e quindi questo perché perché dal marzo sono ci sono delle città che hanno anche una una presenza diciamo operaia spalato zara se benico cattaro sono appunto porti città e città piccole città industriali e quindi avvengono scioperi proteste studentesche sabotaggi eh e anche azioni militari eh con caratteristiche però prettamente urbane diciamo simili alle eh alle operazioni dei dei gap eh come che lavorano poi in Italia dopo l'8 settembre del 43 ehm anche la repressione quindi ha delle caratteristiche particolari in soprattutto in eh in Dalmazia eh la repressione si affida nei primi mesi in particolare a eh tribunali eh quindi non è una repressione del tutto eh diciamo arbitraria ma si affida a tribunali che eh eseguono diciamo eh condanne sommarie eh dei dei prigionieri ma che che formalmente processano eh i catturati eh queste sono immagini di eh fucilazioni di vincisioni alcune immagini che ci sono in questa mostra purtroppo sono diciamo alcune un po' impressionanti eh soprattutto quelle relative al ai ai crimini di guerra delle proprie delle repressioni eh violente che però non vedremo eh quest'oggi tranne queste queste qua ehm ecco ehm quindi ci sono questi tribunali il tribunale il tribunale straordinario della Dalmazia e poi il tribunale speciale della Dalmazia che eh combinano con danni a morte eh con estrema facilità eh ma anche ehm eh diciamo eh composte di internamento nei campi di concentramento che si creano eh in quest'area in particolare su due isole Molat in Dalmazia e Mamula nella provincia di Cattaro quindi eh nel nelle nelle bocche di Cattaro in Montenegro sostanzialmente ehm ecco eh poi possiamo passare alla stanza della della Croazia eh che invece è parecchio più ampia come vedete ci sono ben eh sei pannelli differenti ehm eh in questo caso eh direi che forse per avere un quadro completo della 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 vicenda che riguarda la Croazia bisognerebbe addirittura partire eh di nuovo dalla sezione uno quella della guerra eh ve la mostro soltanto rapidamente dove eh c'è una appunto la parte che abbiamo visto prima occupazione e annessioni dove si parla anche eh di eh chi era antepabili c'erano gli ustasci che sono coloro che appunto eh formano eh lo stato croato. Lo stato croato è sostanzialmente uno stato uno stato collaborazionista ehm è uno stato eh quindi eh che viene creato dalle forze occupanti eh dagli dagli italiani dai tedeschi eh insieme in particolare dai tedeschi che sono quelli che militarmente prendono il controllo del territorio eh ma eh il eh i tedeschi ceggono decidono di eh accogliere la proposta di Mussolini eh di far diventare leader di questo stato capo di questo stato antepablice. Antepablice appunto chi è? È un ehm un collaboratore dell'Italia fascista da lunghissima data. È un espatriato politico della Croazia eh fin dal 1929 eh ha creato un gruppo terroristico in Italia che ha operato fino al trentaquattro con diversi attentati tra cui anche eh il regicidio e quindi l'uccisione del re Jugoslavo nel trentaquattro Marsiglia. Quindi c'è un rapporto di lunghissima data tra eh tra l'Italia eh tra l'Italia fascista e gli ustascia appunto il movimento terroristico di Pavelic. Eh questo eh questo stato come vedete è uno stato piuttosto grande di fatto è il territorio più ampio ehm ex Jugoslavo eh unito in un unico in un'unica struttura amministrativa ehm e eh include tutta la Bosnia-Herzegovina. Eh in questo eh in questo stato eh eh appunto il movimento Ustascia eh non ha una grande autonomia rispetto appunto ai due grandi protettori Italia e la Germania che hanno creato eh il paese eh sostanzialmente la sua autonomia è quasi esclusivamente in politica interna cioè eh cerca eh di eh ottenere il suo eh i suoi obiettivi in politica interna che sono quelli di creare uno stato nazione cioè uno stato etnicamente puro eh puramente croato in un territorio che però appunto come ehm come abbiamo visto include tutta la Bosnia-Herzegovina e dove i croati cattolici cioè quelli che si riconoscono come come puri croati sono sostanzialmente poco più del 50% della popolazione. Eh questo fa sì che eh per ottenere eh diciamo l'obiettivo della di creare uno stato etnicamente puro eh gli Ustascia si trovano davanti alla necessità di ehm diciamo eliminare una parte di popolazione sostanzialmente eh che non riconoscono come come croato. Eh in questo senso lo stato croato è eh strettamente eh legato alla eh alla chiesa cattolica eh si identifica come eh come uno stato eh sostanzialmente confessionale quindi legato al al cattolicesimo e in qualche modo la chiesa anche appoggia questo tipo di eh di politica eh ma c'è anche una presenza musulmana molto significativa ovviamente in Bosnia e i musulmani vengono in qualche modo identificati comunque come croati anche se diciamo cittadini in serie B in qualche modo perché appunto dovrebbero convertirsi al cattolicesimo per essere veri per i propri croati ma comunque vengono accettati mentre invece vengono identificati come nemici nazionali da eliminare eh sostanzialmente le popolazioni ebraiche Rom e eh che rappresentano comunque decine di migliaia di persone e soprattutto la popolazione serba che eh conta circa due milioni di persone. Eh questo comporta quindi una eh politica eh di eh molto 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 violenta e molto repressiva fin dall'inizio nei confronti appunto di queste eh di queste tre popolazioni eh attraverso una serie di di pratiche repressive. Da una parte il tentativo di eh conversione al cattolicesimo che non sempre è sufficiente per salvare la vita a queste persone che riguarda centinaia e migliaia di persone quindi conversione di massa al cattolicesimo soprattutto la popolazione eh serba ehm l'espulsione forzata eh della popolazione molti ebrei cercano eh salvezza nei territori eh annesi all'Italia eh molti serbi eh scappano verso la Serbia o verso il Montenegro eh ma poi un vero e proprio vero e proprio che vero e proprie pratiche di sterminio eh vengono creati eh campi di concentramento che sono dei veri e propri campi di sterminio in particolare il campo di Gliasenova che è molto noto perché è l'unico campo di sterminio in Europa non amministrato direttamente dai lantisti ma appunto dagli usteci croati. Eh si trova sul confine attuale tra Croazia e Bosnia eh e qui vengono deportate eh decine di migliaia di persone eh e vengono eh massacrate eh in questo in questo campo di sterminio ma non solo in realtà le strage vengono in in una eh in tutto il territorio croato sostanzialmente compresa nell'area eh dove è presente l'esercito italiano perché in qualche modo lo Stato è indipendente sì ma ha una presenza militare sia italiana che tedesca. La linea che divide eh la presenza italiana e tedesca è questa linea bianca che si vede che si vede qui. Eh quindi l'esercito italiano è presente in tutta quest'area eh più vicina eh alla. Ecco cerchiamo di andare velocemente eh perché i temi sono tanti. Eh ecco allora che rapporto c'è tra lo Stato eh eh lo Stato indipendente croato e l'Italia? C'è un rapporto di eh in realtà di grande diffidenza eh perché sebbene ci sia un'alleanza di lunghissima data appunto tra il fascismo tra il fascismo e gli Ustascia eh in realtà questa eh questa alleanza eh ha un problema di fondo cioè eh in entrambi i casi si tratta di movimenti estremamente nazionalisti eh che rivendicano territori eh gli stessi territori in particolare proprio la Dalmatia che viene annessa all'Italia eh dove la propria la popolazione croata e maggiorità. Eh questo crea quindi subito una grande eh difficoltà da parte degli Ustascia di accettare eh la la cessione della territorio Dalmat all'Italia e eh e quindi rapporti molto ambigui e molto difficoltosi tra le due eh le due le due forze. Eh la la Croazia si eh si avvicina quindi maggiormente in realtà alla eh alla Germania lazista eh che non ha invece rivendicazioni territoriali sul sul territorio croazio. Quindi di fatto in questi anni eh il legame degli eh dello stato Ustascia con la Germania lazista sarà più forte rispetto a quello con eh con l'Italia. Peraltro l'Italia mostra eh fin da subito eh la sua debolezza eh sia militare eh fin nell'aprile del quarantuno e sia eh diciamo politica eh e questo spinge la maggior ragione giusta c'è ad affidarsi alla Germania che sicuramente è è più forte e più ehm è più efficace. Eh gli Ustascia in realtà giocheranno anche un po' su questa contrapposizione, questa competizione diciamo tra due alleati italiani e tedeschi sulla sulla Croazia. Entrambi cercano di di porre la la loro egemonia sul paese sul paese croato ma appunto sarà la Germania ad avere eh più più efficacia. Anche in questi territori eh si sviluppa quasi subito una eh una rivolta, una resistenza eh ma di nuovo anche in questo caso il fenomeno è ancora diverso rispetto a quelli eh che abbiamo nominato prima che vengono in Dalmatia e in Slovenia. In questo caso la maggior parte delle eh dei eh iniziali resistenti diciamo sono ehm rappresentanti della popolazione serba ehm eh che viene eh colpita da queste violenze eh fin da fin dall'inizio, fin dalla dalla tarda primavera, inizio dell'estate del quarantuno e eh i sopravvissuti di queste violenze, di queste di queste stragi, di queste uccisioni eh si armano e si difendono eh dalla eh dall'oppressione eh degli ustaci. Eh e quindi si creano bande eh di eh di resistenti che sono eh inizialmente appunto eh combattono contro lo stato croato ma non necessariamente contro eh contro contro l'Italia eh contro l'Italia occupante. Anzi eh paradossalmente spesso vedono nell'Italia possibilità di salvezza. perché gli italiani eh non hanno eh niente contro queste persone tecnicamente. Finché finché questi ribelli non se la prendono contro gli italiani non sono nemici degli italiani. Gli italiani hanno interesse come qualunque esercito occupante a mantenere il territorio il più possibile eh pacifico eh tranquillo diciamo senza conflitti. Eh e invece le stragi degli ustaci hanno hanno creato eh un conflitto che prima non era. c'era. Eh questo eh questo porta sostanzialmente a un un tentativo di accordo tra i i ribelli eh e e l'esercizio italiano eh che si realizzerà fin fin dall'estate del quarantuno sostanzialmente eh e che crea diciamo due fenomeni eh contemporanei. da una parte una una rottura nel fronte dei ribelli. Da una parte ci sono coloro che decidono di continuare a combattere eh contro non solo contro gli ustaci ma anche contro gli occupanti eh e che eh progressivamente eh finiranno sotto diciamo l'egemonia del partito comunista ed entreranno diciamo nel grande movimento della resistenza jugoslava che si sviluppa contemporaneamente in altri eh territori di jugoslavi. Eh dall'altra invece una parte di queste bande eh sceglieranno di collaborare con gli italiani eh e di combattere eh e di diciamo di difendere i propri territori da eventuali eh degli uguali aggressioni eh degli ustaci. Eh eh l'Italia quindi eh funge eh nei confronti di queste bande che che diventano bande cetniche anche sul sul movimento cetnico eh diciamo vi rimando a a un'altra sezione dove dove eh se ne parla nella sezione due eh ribellione e rivoluzione troverete una eh una pagina dedicata proprio ai cetnici ecco eh che che spiega un po' come si sviluppa un po' come si sviluppa il movimento e ehm e quali sono le sue eh intenzioni. Essenzialmente si tratta di un movimento che rappresenta eh le forze nazionaliste serbe, diciamo tradizionaliste, nazionaliste legate eh spesso alla alla chiesa ortodossa, ai leader diciamo tradizionali. Eh ecco il eh questo 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 avvicinamento tra l'Italia eh tra le forze diciamo di occupazione italiana e eh le bande eh le bande eh le bande nazionaliste serbe porta a una vera e propria collaborazione militare eh che si sviluppa eh nel corso eh dei mesi e che avrà il suo artice proprio negli anni eh diciamo tra il cavallo tra il 42 e il 43 eh qua si vedono alcune foto ma anche su questo eh rimando a un'ulteriore pagina che la pagina eh sei sei due appunto le grandi operazioni e in questo caso eh troviamo eh anche qui eh ecco italiani cettici e tedeschi quindi eh la collaborazione dei cettici con gli italiani ma anche con i tedeschi in tutto il territorio dello stato indipendente croato. Eh perché abbiamo chiamato questa sezione alleati del nemico? Perché non solo perché il titolo di un mio libro straordinario che vi consiglio ma che ovviamente sarà nella bibliografia della mostra questo scusate la l'ironia ma essenzialmente perché eh cosa cosa avviene? Queste queste eh queste bande cetni che fanno riferimento eh a un a un leader un comandante militare è presente sul territorio eh peraltro amministrato agli italiani in Montenegro che ne parlerà tra poco Federico Goddi eh Draghi e il comandante eh il comandante eh il comandante quindi eh supremo diciamo delle bande cetniche eh che appunto collaborano militarmente con gli italiani eh e anche eh contemporaneamente eh contemporaneamente riconosciuto dal governo jugoslavo in esilio a Londra eh come ministro della guerra. Quindi eh sostanzialmente i cettici sono contemporaneamente eh diciamo emanazione del governo jugoslavo in esilio a Londra eh come ministro della guerra. Londra che è ancora in guerra eh 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 e i principali collaboratori militari dell'Italia in questo territorio. Quindi l'Italia in qualche modo si allea col nemico cioè si allea con il ministro eh della guerra di un governo in guerra contro l'Italia. Eh per quanto possa sembrare paradossale però è proprio quello che accadde e questa alleanza in realtà si rivela un'alleanza molto più proficua rispetto a quella eh con gli stessi Ustasha che invece è è caratterizzata proprio da queste diffidenze e queste difficoltà al punto che addirittura eh le autorità militari italiane cercheranno di stabilire un rapporto non solo militare ma anche politico con il movimento cettico creando di cercando di creare una vera e propria alleanza strutturata con i cettici cosa che non si raggiungerà essenzialmente per eh per le eh per la diffidenza da parte di Mikhailovich appunto di leader cettici nei confronti nei confronti dell'Italia. eh eh arriviamo rapidamente alla all'ultima eh all'ultima pagina che riguarda eh i salvataggi così è stata è stata chiamata ehm è interessante notare ehm diciamo sottolineare anche questo aspetto della vicenda eh che rappresenta proprio l'ambiguità della politica fascista in questi territori eh da una parte l'Italia ehm aiuta a creare lo stato indipendente croato lo stato di Pavelich lo stato di Giustoscia eh che è uno stato che è appunto porta avanti una politica di sterminio nei confronti dei serbi dei rom e degli ebrei eh contemporaneamente l'Italia eh l'esercito italiano eh opererà una serie di eh operazioni militari eh repressive nei confronti eh dei partigiani ma che colpiscono spesso le popolazioni civili con diversi eh casi di punto di di crimini di guerra ne parleremo la prossima volta eh ma eh contemporaneamente eh l'Italia eh i soldati italiani presenti sul su questo territorio eh spesso danno aiuto alla popolazione serba che viene eh che viene colpita dalle violenze degli Ustoscia e quindi aiutano a salvare una parte di questa popolazione nascondendola, proteggendola, negli Ustoscia o consentendo loro di entrare nel territorio annesso all'Italia dove gli Ustoscia non possono ovviamente operare eh e lo stesso fanno anche con una parte della popolazione eh ebrea in fuga dai territori del degli Ustoscia. Eh perché questa contraddizione? Perché da una parte eh si si favorisce e si crea lo stato Ustascia e dall'altra eh poi si dà appoggio alle persone che che fuggono dagli stessi Ustascia. Eh beh le motivazioni sono complesse vi rimando alle alle ai vari video che avete visto alla fine di ogni sezione ci sono che spiegano in qualche modo eh più eh dettagliatamente quello che ho vi ho accennato quest'oggi eh ma sicuramente c'è eh da una parte una questione prettamente militare cioè la necessità di pacificare il territorio di evitare il più possibile che eh che si scateni il il caos l'anarchia che quindi questo favorisca eh la resistenza eh e questo spinge quindi a eh in qualche modo proteggere la la popolazione selva appunto eh che subisce le violenze Ustascia. Eh dall'altra eh invece la protezione degli 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 ebrei ehm ha a che fare soprattutto con una ehm un tentativo da parte dell'Italia di eh esprimere la propria eh la propria eh la propria egemonia il proprio prestigio in un territorio che è considerato comunque parte integrante della eh sfera di influenza italiana e quindi nel momento in cui eh a partire dalla seconda metà del quarentadue gli Ustascia e poi anche la Germania Latvista richiedono all'Italia la consegna degli ebrei che si sono rifugiati nel proprio territorio eh gli italiani decidono eh di non consegnare questi ebrei eh ma appunto per questioni principalmente di prestigio oltre che ovviamente umanitarie eh scelgono di eh inizialmente proteggerli e poi addirittura eh di mettere in scena una sorta di eh di di finto internamento cioè di fatto eh questi ebrei vengono deportati nel campo di concentramento di Arbe eh che come vedrete la prossima volta è il peggior campo di concentramento italiano dove muoiono eh mille cinquecento eh civili in gran parte sloveni ma dove viene creata una sezione specifica per eh gli ebrei dove invece eh non avvengono morti dove le condizioni di vita sono decisamente migliori rispetto al campo per gli islami eh e in questo campo quindi le eh gli ebrei sopravvivono fino all'8 settembre del 43 e molti di loro riusciranno poi dopo eh dopo l'armistizio a fuggire dal campo a rifugiarsi sulla terra ferma e quindi aver salva la vita e non finire deportati eh nei campi nazisti come la maggior parte degli ebrei d'Europa ecco per adesso vi saluto e vi ringrazio e vediamo se ci sono domande sì buongiorno allora c'è arrivata una domanda in particolare chiedono chiedono se possono essere fatti dei confronti con le zone di occupazione tedesche ungheresi e bulgare e se sotto alle teme esistono degli studi dunque sì esistono degli studi eh credo non in italiano però sinceramente sicuramente in tedesco e alcuni anche in inglese ehm e soprattutto diciamo di confronto tra eh le strategie di occupazione tedesca e italiana eh in particolare nel territorio dello stato indipendente croato ehm e certo si possono fare dei confronti allora eh per quanto riguarda ehm diciamo le strategie repressive in realtà le modalità sono molto simili come vedrete nel prossimo incontro dove si parlerà proprio direttamente delle questioni repressive dei crimini di guerra eh anche se diciamo a livello di intensità eh la Germania eh diciamo i soldati l'esercito tedesco commette un maggior numero di crimini uccide più persone ma sostanzialmente la strategia le modalità sono sono piuttosto simili ehm le eh diciamo le strategie occupazionali in generale invece sono parzialmente diverse l'Italia eh diciamo presta particolare attenzione alla ehm al alla al collaborazionismo diciamo così al cercare il più possibile eh di creare ehm eh diciamo eh alleanze con eh con chi eh diciamo a livello locale è disposto a collaborare con con gli occupanti eh e in particolare sul territorio dello stato indipendente croato questo eh comporta eh una un vero e proprio sistema di alleanze un vero e proprio sistema di di collaborazione molto complesso in cui gli italiani fanno eh diciamo fungono da mediatori eh tra eh territori che vengono amministrati eh dagli ustace quindi dal governo croato eh territori che vengono amministrati direttamente di fatto dall'esercito italiano eh e altri territori dove c'è una maggioranza di popolazione serba che vengono amministrati di fatto da queste bande cetniche eh alleate con l'Italia fascista e quindi eh un sistema di collaborazione molto complesso ma anche molto efficace di fatto che fa sì che gran parte di questo territorio in realtà venga eh mantenuto diciamo più o meno sotto controllo anche se ricordiamo quest'area è anche l'area dove sarà più attivo il movimento eh il movimento partigiano eh guidato da Tito e dove eh il proprio il centro la parte centrale dell'esercito partigiano giugoslavo sarà più attivo soprattutto nella parte nel periodo tra il 42 e il 43 dove eh si muoverà diciamo tra lo stato indipendente il croato e la e il montenegro eh e quindi eh ovviamente questo metterà un po' in crisi il sistema creato dagli italiani però ecco questa volontà di collaborare con forze anche non strettamente eh legate ideologicamente all'Italia fascista eh è una caratteristica peculiare del sistema di occupazione italiano rispetto a quello tedesco inglese o bulgaro. Forse potremmo aggiungere che dopo l'otto settembre del 43 i tedeschi in parte erediteranno questo sistema di alleanze no? Mentre fino all'otto settembre hanno pesantemente criticato gli italiani per i loro collegamenti con i cetnici poi saranno anche loro a servizio dei cetnici. Ma mi pare ci sono anche delle altre domande. Una è arretrata ci è arrivata tempo fa ma vediamo prima queste. Allora se si può affermare che gli odi etnici intra-yugoslavi sono stati scatenati e favoriti dall'occupazione militare italiana e tedesca oppure si erano presi i sensi nelle forme e nelle azioni? Ma è una bella domanda eh beh ovviamente eh una una tensione era presente sul territorio fin da fin da fin da prima è chiaro ehm l'attività legnustica eh negli anni precedenti lo dimostra ehm certamente la guerra eh scardinando diciamo eh il sistema eh il sistema preesistente e mandando al potere le forze più estremiste dei vari dei vari schieramenti eh favorisce lo scontro e favorisce e favorisce le stragi. Eh ricordiamo anche che nella grande maggioranza dei casi non si tratta di eh diciamo eh guerra civile tra tra forze nazionaliste le une contro le altre. La guerra civile esiste ed è una guerra civile delle forze nazionaliste contro la resistenza che invece è è unitaria, è una resistenza jugoslava che unisce tutte eh le popolazioni eh jugoslave. Eh mentre invece le forze nazionaliste portano avanti una vera e propria guerra contro i civili che è una cosa diversa cioè eh il tentativo di creare zona etnicamente pure quindi di condurre pulizia etnica eh contro le popolazioni appartenenti a eh appunto eh identità eh nazionali differente da quelle delle rispettive forze eh nazionaliste. Quindi gli usta cercano di creare appunto eh un territorio etnicamente puro sterminando i serbi, gli ebrei rom, i cetnici a loro volta cercano di creare territorio etnicamente puro sterminando soprattutto popolazioni eh musulmane nelle aree tra il Montenegro e la tra il Montenegro, la Serbia e la Bosnia. Forse potremmo ancora dire che poco prima dello scoppio della guerra eh la componente serba e la componente croata avevano raggiunto una buona intesa mentre nei decenni precedenti i rapporti sono stati pesissimi beh si era arrivato una sorta di compromesso abbastanza buono tutto sommato che poi salta no? Ovviamente con l'intervento italo tedesco ungherese. Poi ho ancora una domanda che avevo raccolto che riguardava i cetnici eh si è detto nella prima delle visite guidate si è ripetuta oggi ma lo sanno più o meno tutti che i cetnici sono eh esponenti della tradizionale classe dirigente serba eh qualche nostro visitatore che evidentemente ha letto un saggio di Patrick Carson sulle vicende del quarantaquattro nella Venezia Giulia ed è lì ha scoperto che a distruggere eh fondamentalmente la direzione eh comunista eh italiana in parte anche quella slovene a Trieste nel quarantaquattro e l'azione della Gestapo che si serve di cetnici sloveni e allora ha chiesto ma allora cosa sono questi cetnici sloveni? Sono serbi? Sono sloveni? Domanda per tutti voi. Io direi volentieri a Stefan visto che riguarda la Slovenia e e poi siccome non ha ricevuto domande poverino mi sembra giusto. Infatti infatti Eric mi ha anticipato perché stavo già iniziando a rispondere ma no allora in realtà mi ricollego anche alle cose dette eh prima dallo stesso Eric che ha ben eh inquadrato diciamo eh i diversi attori in campo per dire che sì c'è una presenza etnica anche in territori sloveni ma la possiamo considerare essenzialmente come eh residuale nel senso che eh dal punto di vista numerico eh si parla di non si supereranno mai la quel qualche centinaio di componenti che sono comunque diciamo soprattutto legati al al vecchio esercito regio che si sfascia nell'aprile del quarantuno per capirsi e che si identificano nell'idea del mantenimento di un regno di Jugoslavia possibilmente ulteriormente eh allergato diciamo però eh se pensiamo alle cose che sono state dette eh prima relativamente all'importanza eh dell'elemento eh serbo in quel contesto relativamente anche a una connotazione comunque forte in chiave ortodossa di quel movimento possiamo anche un pochino capire perché si tratti eh di un qualcosa che non prenderà molto piede eh in Slovenia non lo prenderà non prenderà piede soprattutto come eh elemento rilevante dal punto di vista eh militare dal punto di vista di una forza combattente svolgerà però qualche ruolo in settori che potremmo dire più di di intelligence per così dire perché comunque è un è un gruppo che un po' anche per le cose che sono state dette prima possiamo anche immaginarci come gruppo che ha contatti con i diversi attori in campo e quindi anche eh un gruppo nel quale le attività di intelligence e trova comunque terreno fertile entità di intelligence per gli interlocutori più diversi naturalmente ecco. Bene grazie passiamo ad un'altra sezione terribilmente complicata altra situazione terribilmente complicata che è quella del Montenegro e quindi la parola Federico Bobbi. Eh buonasera buonasera a tutti eh mi sentite? Eh ringrazio ringrazio per l'invito eh io io parlerò come annunciato eh dal dal professor Pupo della Sernagora del del Montenegro della montagna nera della presenza italiana in Montenegro eh dell'occupazione che va dall'aprile del quarantuno a la capitolazione italiana dell'otto settembre quarantatré ehm chiedo di aprire il primo pannello eh che fare in Montenegro eh la foto centrale una foto una foto importante una una foto interessante a livello geografico a livello politico eh a livello sociale eh sullo sfondo eh le vette le vette più basse della della catena dell'Opchen eh mon catena cara al popolo montenegrino a millessei c'è il mausoleo eh di Peter Negus eh il capostivite Vladica e Principe capostivite della dinastia Petrovic la stessa dinastia della regina della regina Elena della regina d'Italia eh è una foto che dice molto sullo sfondo geograficamente quindi siamo a Settigne l'antica capitale montenegrina eh siamo al dodici settembre eh chiedo scusa al dodici luglio del del quarantuno e questa è una cerimonia eh ufficiali della divisione Messina di una divisione di fanteria con una media di preparazione per dirla con le parole di Giorgio Rocha una divisione qualsiasi non preparata con adeguatamente con delle tecniche di ingaggio d'Anti Guerriglia lo vedremo meglio nei pannelli successivi non si vede in questa foto che è una foto del luce ma ci sono altre foto del luce in cui si vede Carlo Tucci eh che è il generale di quella divisione Messina è interessante perché è un nome che dice poco in Italia ma è presente nella memoria montenegrina proprio perché eh i luoghi conservano memoria e a Cettine si ha memoria più di un generale che occupava diecimila uomini che sostanzialmente di un di un generale che ne comandava centocinquemila come Tirzio Biroli eh che c'era a volte a Cettigna e a Cettigna altre volte si recava in Albania e se ci sono quindi ci sono quindi dei rappresentanti è una eh sono rappresentanti eh che il fascismo utilizza per per una questione politica la questione dell'indipendenza del Montenegro veniamo quindi a qual è il ruolo del piccolo Montenegro all'interno del nuovo ordine mediterraneo è un piccolo ruolo eh è il ruolo di un di un di un paese che naturalmente aveva una diminuzione molto forte a livello geografico perché piccolo perché Montenegro indipendente significa grande Albania e tra quegli tra quegli uomini della foto precedente ehm eh c'erano rappresentanti eh che poche ore dopo avrebbero eh partecipato all'assemblea costituente c'era il presidente dell'assemblea nella foto precedente non questa del prefetto eh quindi c'era Mikhailo Ivanovic un fedele collaboratore di Renicola eh non si vede ma sarà presente a quell'assemblea l'assemblea dell'indipendenza del Montenegro eh Secula Drilevic un altro ufficiale molto vicino a Renicola sostanzialmente si tratta di fantasmi di vecchio regime a cui il fascismo si affida ehm eh usando ehm utilizzando eh sullo sfondo e questo invece è uno sfondo politico e non geografico eh due altre entità istituzionali politiche che sono il comitato di liberazione comitato di liberazione ehm aveva a capo eh Luca Rakovic che era un uomo molto vicino alla luogotendenza d'Albania a Iacomoni e quindi vediamo l'idea della grande Albania che da tirana entra a Cettinie e l'altra istituzione politica su cui il fascismo ehm che utilizza il fascismo è il comitato amministrativo provvisorio che è invece una un'entità istituzionale politica che è presente a Cettinie qui il leader è Jovo Popovic anche in questo caso un anziano consigliere di re Nicola eh del re re del Montenegro e mh è quindi una dimensione questa dimensione eh quella de di questa foto di ventiquattro ore precedenti alla ribellione all'Ustanac alla ribellione del tredici luglio del quarantuno quest'anno ci saranno grandi celebrazioni eh naturalmente nel rispetto eh del 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 mondo che stiamo vivendo ma sarà una giornata importante il tredici luglio di quest'anno a Pogorizza perché si celebrerà eh l'anniversario come sempre ma questo è un anniversario particolare come quello di questa mostra eh della rivolta eh antifascista eh che allora come oggi ha come slogan Sernogorco né fascismo il Montenegro non è fascismo e la seconda foto invece ehm chiedo dalla regia la seconda foto la seconda foto invece racconta un'altra occupazione un'occupazione che ha che ha anticipato Eric che ha anticipato Eric Gobetti prima qui siamo in un'altra dimensione siamo sulla costa eh Cettigni e Montenegro centrale Montenegro storico ehm e qui invece siamo nelle bocche eh Cotor siamo nelle bocche eh di Cattaro e quindi un'altra entità eh politica che è quella che ha ricordato Eric il governatorato della Dalmazia quindi formato dalle province annesse eh Zara Spalato e Cattaro parliamo di in quest'ultimo caso delle bocche tutte comprese non solo quindi la regia prefettura di questa città di questa bellissima città eh di cinquantamila uomini eh cinquantamila abitanti chiedo scusa di cui il cinque per mille erano italiani eh qui c'è una politica diversa rispetto al Montenegro che ho raccontato prima che è il Montenegro amministrato civilmente fino alla rivolta la rivolta porterà un governatorato militare di cui dirò qui le politiche di assimilazione sono forti eh è inevitabile no? Sono si tenta si tenta un'annessione in toto e si muovono movimenti sincronici e convergenti con provvedimenti di polizia molto duri a volte anche più duri del governatorato militare tanto da creare una sorta di policrazia tra amministrazione civile eh a Cotorra e quindi uno scontro che avverrà spesso tra il prefetto Francesco Scasellati e il governatore del Montenegro Pirzio Biroli eh è una dimensione quindi complicata eh un Montenegro che viene smembrato che viene smembrato ehm per l'appunto togliendo delle ricchezze storiche eh che erano una pietra angolare dell'economia montenegrina eh le bocche erano un polmone dell'economia montenegrina il fascismo ha l'idea del Montenegro indipendente quello della prima foto che è un piccolo Montenegro e la rivolta veniamo al apriamo il secondo pannello e l'insurrezione avrà anche queste ragioni ecco spesso la storiografia montenegrina eh meno fino all'ottantanove ma anche eh dopo se vogliamo ha rivisto in queste a questa rivolta nello Sanac nella rivolta antifascista antitaliana eh ragioni squisitamente eh comuniste in realtà non è così eh naturalmente storici come Montenegrini come eh Radoia Paiovi ci hanno fatto un lavoro molto importante eh la nuova generazione ha preso spunto anche da da quei lavori e ha fatto un discorso ha costruito un discorso che è un discorso molto più complesso più ampio come sempre accade la complessità è regina nell'occupazione in Montenegro ed è un'impostazione quella della rivolta certamente eh che ha una rilevanza comunista ringrazio la regia per questa foto in cui riconosciamo Ivan Milutinovic l'unico con gli occhiali eh comunista di Pogorica è una foto che rappresenta una generazione una generazione in cui eh non racconta questa cosa eh la foto ma la dico io eh sottende anche un'esperienza precedente antifascista ci sono in questa foto dei guerriglieri che hanno fatto la guerra di Spagna hanno già combattuto il fascismo come Savakovaevicevic come Pekotarcevic gente che ha già esperienza di guerriglia a differenza eh della cattiva esperienza e scarsa esperienza delle politiche di ingaggio d'antiguerriglia delle divisioni di fanteria italiane fanno eccezione gli alpini che invece combattono a guerra di antiguerriglia discreta con buoni risultati naturalmente non parlo giudizio etico morale ma sotto l'aspetto squisitamente militare e quindi una una ragione le ragioni di questa insurrezione sono eh delle ragioni naturalmente politiche e c'è un questo momento anche una sinergia tra l'elemento nazionalista e l'elemento comunista eh Eric ha ricordato eh Pavle Giurisic un uomo vicinissimo a Drasa Mikhailovich che è nascosto in Montenegro a Lipovo a otto chilometri da Colasin che è la base di questo cetnico montenegrino di nome Pavle Giurisic tutti conoscono sanno ehm quali sono i nascondigli di Drasa in Montenegro ma gli italiani hanno bisogno hanno bisogno di quella collaborazione quindi nella rivolta ci sono ci sarà anche Pavle Giurisic il tredici luglio del quarantuno ci sarà anche poi ci saranno anche altri elementi etnici che con la rivolta parteciperanno naturalmente da lì la rottura arriverà presto eh la la rottura arriverà anche per merito di della persona che vediamo del militante che vediamo in foto eh Ivan Milutinovic che era contrarissimo a un a proseguire quell'alleanza con l'elemento nazionalista mentre per esempio Milo Vangilas a un certo punto vorrà utilizzare per una fase Giurisic ma anche lì si sgancerà eh presto ci sono quindi delle ragioni ragioni eh nazionalcomuniste in questa rivolta quindi eh però dobbiamo anche ricordare che l'elemento comunista militante eh eh con testera o giù di lì in quel eh in Jugoslavia in quel periodo era di cinquemila militanti quindi non tantissimi in Montenegro naturalmente ancor meno ma fortissimi naturalmente una cellula fortissima perché lì c'è Milo Vangilas che sarà anche il numero due della Jugoslavia Titina e ci sono anche ragioni in quella rivolta naturalmente della secolare amicizia con la Russia prima zarista poi sovietica insomma eh l'operazione Barbarossa del giugno del quarantuno qui stiamo in luglio quindi la distanza è poca però la ragione principale è una ragione confinaria ed economica eh ripeto riavvolgo un attimo il nastro ma è veramente fondamentale le ragioni economiche sono eh le ragioni di una giaccherie di una rivolta di popolo ehm la prima ehm il fatto che l'Italia fascista priverà il Montenegro di una salina la salina di Giulcini di della veneziana Dulcino Giulcini cedendola all'Albania e ci saranno anche dei delle cessioni confinarie in una zona in cui ehm storicamente ehm la l'economia agro pastorale montenegrina fatta anche di grandi transumanze eh verso il confine cossovaro eh viene privata dei campi per il bestiame e naturalmente anche lo stesso sale eh elemento per la conservazione eh genera una grande una grande una grande ehm un grande malcontento soprattutto nel mondo agropastorale e contadino montenegrino quindi è una foto che dice molto della politica eh ma dietro questa foto ci sono anche altre realtà che ho un po' raccontato eh che è utile ricordare in una in una mostra molto complessa insomma la cui categoria è certamente la complessità vengo quindi alla terza sezione sezione della mia quinta sezione che è la sezione ehm riguardante la repressione ehm quindi veniamo un attimino alla questione repressiva che segue la rivolta no? Questa rivolta con l'attentato del tredici luglio come come avviene la repressione eh naturalmente eh la prima la prima foto ci aiuta ci aiuta un attimino perché eh riesce a riusciamo a ricostruire anche una dimensione specifica eh come ha ricordato il professor Pumbo eh in Montenegro questa è una foto di prigionieri eh di italiani inviati al tribunale a un tribunale che è il tribunale militare di Cettigna quindi siamo sempre eh qui siamo nelle campagne di Cettigna ricordate la prima foto ehm e quindi c'è una dimensione cioè questa è una foto che racconta anche un altro aspetto della della dimensione ripressiva italiana l'aspetto della giustizia militare c'è in Montenegro un tribunale militare che svolge una funzione molto importante il tribunale militare non è il centro della repressione in Montenegro il cuore della repressione sono le divisioni militari il tribunale militare verrà utilizzato dal governatore Pirzio Viroli in funzione anche propagandistica ehm la politica di Pirzio è fatta di grandi amnestie eh utilizzando come pietrangolare proprio la giustizia militare ad esempio nell'ottobre del quarantuno e grandissime repressioni a cui Pirzio viene indirizzato però c'è da dire soprattutto da alcune divisioni militari che in un certo senso dettano l'agenda repressiva al governatore sono principalmente la divisione di fanteria Venezia che è nel territorio amministrato da giurisizia eh lì parliamo di condominio cetnico quindi alleanza idolo cetnico per quella zona del Montenegro centro orientale e la pusteria che è una divisione alpina che combatte una guerra talmente dura e come tecniche di ingaggio ehm molto ehm molto buone eh così eh così eh efficaci da essere richiesta più di una volta dai tedeschi eh dal quartier generale di Uzzice eh per alcune eh per alcune operazioni congiunte e vengo quindi alle suggestioni a quello che è stato detto da Eric precedentemente quindi anche questa alleanza questa dimensione questa dimensione di occupazioni che si che sono confinari che si incrociano e che quindi vengono a contatto no con movimenti movimenti continui e la seconda foto di questo pannello ehm è una foto invece che racconta che racconta quest'altra dimensione la dimensione della repressione delle divisioni militari e badate bene che quando parliamo di una divisione militare parliamo di generali che comandano su diecimila dodicimila uomini eh tredicimila uomini se mettiamo anche le camicie nere eh che avevano aliquote a volte cospicue all'interno di una divisione militare è quindi una piccola all'interno di una guerra mondiale all'interno di una dimensione che l'occupazione italiana dei Balcani è una piccolissima dimensione come come se fossero delle scatole cinesi bene è lì è lì che ehm ha luogo è lì che noi possiamo rintracciare la le anche le efferatezze di cui ha parlato il professor Pupo ehm nell'introduzione a questa mostra quindi veniamo ehm veniamo alla quarta sezione alla quarta micro sezione della mia sezione che è la stabilizzazione eh la stabilizzazione quindi eh una foto una foto veramente molto bella eh io ne avevo ne avevo altre ma non questa devo dire eh una foto ehm siamo nell'estate primavera primavera estate questo è un incontro dell'estate del quarantadue eh che avviene a Colascin tra Pavle Giurisic che vedete in primo piano insomma con il barbone cetrico ehm e dietro sullo sfondo il governatore è quindi una dimensione la dimensione del condominio italocettrico la questione del collaborazionismo in Montenegro è fondamentale eh ma come nascono gli accordi? Gli accordi eh nascono non per merito del governatore che vedete in alta oriforme sullo sfondo che il leone del Gondar un uomo che aveva fatto la guerra d'Africa un uomo che viene dall'Albania un uomo con un prestigio militare eh notevole un uomo che viene ricordato anche in un paio di romanzi di Montanelli l'immagine della eh di di Pearson un'immagine che viene eh dall'Africa e che tutti riconoscono anche in Montenegro sotto questo punto di vista eh ed è rappresentante anche di quella di quell'aspetto eh coloniale che c'è dell'occupazione italiana a Montenegro solo nelle tecniche di ingaggio naturalmente ci sono delle operazioni che vengono dalla dimensione coloniale in Montenegro delle operazioni repressive che sono per esempio le tecniche di privazione del di cibo food denial quindi eh momenti in cui eh interi villaggi vengono privati di cibo alla eh al secondo attentato interamente privati eh privati di delle derrate alimentari sono tecniche utilizzate principalmente da divisioni che avevano come generali eh ufficiali che avevano fatto l'Africa. eh ad esempio Silvio Bonini generale eh della divisione Venezia eh è un altro dei generali che aveva esperienza coloniale e utilizza alcune tecniche eh eh interessanti storica storicamente naturalmente sotto questo punto di vista ma quindi non è non è la dimensione del governatore eh e quindi sarà dal basso di nuovo dal basso avviene questa questo condizionamento questa questo mh questa volontà eh delle divisioni militari che governano diecimila dodicimila uomini di trovare trovare un abboccamento un abboccamento con i cettici eh e eh dico solo quali sono gli esponenti principali vado in chiusura eh sono Cristo Popovic che non è in realtà un cettico ma è di fede separatista eh Bojo Stanisic che ho già citato prima ed appunto Pavel Edu Giurisic sono eh delle bande che hanno mille e cinquecento uomini regolari ma in realtà hanno molti più uomini eh tra i sottoposti perché naturalmente nell'elastico riescono sempre ad avere dal San Giaccato una forza cettrica che viene anche dalla Serbia e quindi ingrossano le file molto spesso vengo quindi al 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 pannello che è il pannello eh sui campi eh e lancio ehm in realtà anche quelli che sarà che sarà il prossimo incontro in cui eh si parlerà del del sistema di internamento dei campi di internamento ehm durante le occupazioni italiane in Jugoslavia io devo dire qualcosa perché perché ehm in realtà l'elemento caratterizzante del sistema di occupazione italiano in Montenegro è proprio l'internamento quindi è letteralmente impossibile ehm fare una carrellata seppur sintetica nell'occupazione italiana a Montenegro senza citare questo aspetto eh perché viene inserito nel sistema repressivo soprattutto eh attraverso anche categorie specifiche che noi intracciamo anche in in archivio se noi ehm facciamo ricerca andiamo a fare ricerca all'ufficio storico dello stato maggiore dell'esercito troveremo una categoria ostaggi e ribelli montenegrini eh si tratta di civili che la l'Italia fascista utilizzerà come deterrente ehm nei confronti della resistenza montenegrina si trovano nei campi eh albanesi si trovano ehm però nei campi italiani e ehm a Mamola e Preplaca invece civili che non eh vengono passati per le armi se non attraverso la giustizia militare e questo è il caso quindi di Mamola e Preplaca vedo le due foto solo per dire che questo è un campo che viene creato nel marzo del quarantadue è un'isola in carcere fortezza ehm i reclusi la condizione dei reclusi è durissima entrambi i campi ospitano donne eh e uomini fino al al giugno del quarantadue poi le donne vengono ehm spostate a Preplaca e dopo l'otto settembre del quarantatré il campo è smantellato eh anche se per un breve periodo viene utilizzato eh dai dai tedeschi eh quindi vado questa diciamo è la la mia conclusione con ehm con l'internamento che naturalmente troverete nelle incontri successivi quando i nostri colleghi parleranno del sistema di internamento italiano in Jugoslavia. Vi ringrazio per l'attenzione ho cercato di essere rapido ma è complesso il Montenegro. Grazie. Molte grazie anche Federico Gotti che ha arricchito notevolmente le nostre conoscenze eh sul Montenegro. Eh lo sapete è una storia complicata no? È il terroro dei miei studenti è questa evidentemente. Anche all'interno di questa mostra naturalmente abbiamo cercato di rendere la complessità la complessità un po' difficile da capire e proprio per questo abbiamo scelto la via delle visite guidate per cercarli di panare un po' tutti questi nodi. Bene vediamo se ci sono domande. Tutto chiaro? Bene vuol dire che i nostri relatori sono stati chiarissimi ma naturalmente nel caso sorgesse ancora qualche dubbio a noi non è che scompariamo dalla faccia della terra evidentemente. Domande possono essere sempre rivolte tramite eh la mail dell'istituto operatoria della resistenza del Friuli Venezia Giulia. Se non ci sono ehm altre domande immediata allora io ringrazio tutti ringrazio Stefan Ciocco ringrazio Ericko Gobetti eh ringrazio Federico Goddi eh ringrazio moltissimo Chiara Boscarol e Fulvia Benorici che hanno consentito eh di mettere in piedi far funzionare questo collegamento ringrazio a tutti e voi che avete partecipato e vi do appuntamento alla terza visita guidata martedì prossimo terza visita guidata che riguarderà specificatamente le logiche repressive delle truppe italiane. Ancora buona serata a tutti e a tutti arrivederci. Buonasera. Arrivederci grazie. Buonasera grazie a tutti. Arrivederci.